Eccolo, eccolo! Oggi farò un regalo assurdo al mio miglior amico Praticamente, aprirò tantissime mystery box E l'oggetto più costoso non lo otterrò io, ma glielo regalerò a lui Eh? Che amico che sono? Allora, sono su Gemlit, userò questo sito per aprire le mystery box Che è un sito affidabilissimo e che mi piace tantissimo Non è la prima volta che lo utilizzo E su questo sito si vince sempre qualcosa Che sia una piccola cosa o che sia una grande cosa È totalmente random, quindi potete aprire anche magari 20 mystery box E non trovare un oggetto costosissimo, tipo un iPhone E poi magari ne aprite due e lo trovate Quindi va totalmente a fortuna Io ho 2800 gemme che equivalgono praticamente a una sterlina Quindi è come se avessi 2800 sterline caricate Quindi possiamo divertirci e aprire tantissime mystery box Vi lancio una sfida Ora voi nei commenti dovete scrivere Sì, vincerai qualcosa? E provare a indovinare anche cosa? Oppure no, non vincerai nulla Barbuto, sei sfigatissimo A fine video vedremo chi ha avuto ragione E facciamo questa scommessa tra di noi Sul gemme ci sono tantissime mystery box Possiamo vincere davvero tantissime cose Borse, sport, iPhone, Apple, fotografia, gioielli, videogiochi Davvero qualsiasi, qualsiasi cosa Quindi io inizierei per divertirci un po' Per aprire un po' di scatole Una mystery box random Questa è un'altra, sono quelle che costano di meno Costano 7,90 Scegliamo il numero 2 Oggi sarà il nostro numero fortunato Tagliamo Wow Hai vinto una custata per scade SD Non ci serve assolutamente Quindi ricevi 4 Lo rivendiamo per rigiocare E ne apriamo subito un'altra Sempre random È fighissimo il fatto che io apri le scatole Sembra che le apra davvero Ok, non è un semplicemente cliccare Dovevo anche, c'hai capito? Col taglierino scorrere e tagliare La mystery box Fighissimo Continuiamo col 2 Perché secondo me oggi è il nostro numero fortunato Oh, adattatore per sim Non ci serve Lo rivendiamo Direi di magari passare a qualcosa di più Di più grosso Tipo Una mystery box hypebeast Che costa 20 Sempre il nostro numero 2 Il nostro numero fortunato di oggi Attenzione Cos'è un marsupio? Un bag Una bag Un bag Un bag o una bag? Com'è? Dai Jamlit fammi vincere qualcosa Per favore Giuro, giuro Voglio fare un bellissimo regalo al mio migliore amico Uso Apriamo qualcosa per la casa Così anche se gli ho il regalo lo usiamo tutti e due Apriamo per 19,90 Attenzione Scatola numero 2 Perché è la nostra scatola fortunata Hai vinto delle spatole in silicone Direi che rigiochiamo Cioè comunque si vince sempre qualcosa Se non ti piace lo rivendi Hai la possibilità di aprire altre scatole Perché fai crediti no? E quindi ci sta Quindi ci sta Per uno a cui piace Aprire mystery box Come me è perfetto Spremmo un games Che è la seconda scatola Che costa di meno Spremmo che poi Poi aumentiamo il tiro Dato che il 2 Non mi sembra molto fortunato Proviamo con una scatola numero 1 Apriamo Attenzione Abbiamo vinto Un gioco Che non so Minimamente come si pronuncia Shovel Knight Shovel of Hope Non so minimamente che gioco sia Lo rivendiamo Non ci serve Direi di aumentare un po' Un po' Il costo Apriamo una da 99,90 La rischiamo Ne apriamo una da 99,90 Attenzione Proviamo La scatola numero 3 Me la sento Questa è buona Me lo sento Abbiamo vinto una maglia Di off-white Per Nike Una stampa Come se uno fosse Come se avesse lo smoking Ma non ci piace Dico la verità Non ci piace Ne apriamo un'altra però Ne apriamo un'altra Da 99,90 Perché lo voglio fare Lo apriamo il 2 Il 2 è il numero fortunato Di nuovo Eh no La rivendiamo Ne compriamo un'altra Ne apriamo un'altra Ne apriamo un'altra No problemi Di nuovo il numero 2 Me lo sento Oh Sempre la stessa Ma di un'altra colore Ma mi prendi in giro Mi prendi in giro Attenzione A mo Mi prendi in giro Mi stai prendendo in giro Sneaker lovers Da 79,90 La vogliamo rischiare Oh Hai vinto Puma Smash B2 Ma non ci piacciono Non ci piacciono Ne apriamo un'altra Ne apriamo un'altra Perché c'era Sto suono assurdo Queste sono costose Mi sa Congratuzione Hai vinto Rebook Ghostbusters Per Stranger Things Ma queste sono costose 480 Allora questo lo teniamo Penso costino Sui 500 euro Chi è esperto me lo dica Non ho mai visto Quelle scarpe Sembravano molto costose Anche dal suono Quando fa quella trombettina Sembra qualcosa di costoso Ci andiamo giù di Apple Quella da 14,90 Poi andiamo A quella da 49,90 Direi Mi piace Mi piace aprire il mystery box Mi piace Eccolo E il campeoni Il campeoni Andiamo sulla 2 Che abbiamo visto Che il nostro numero fortunato Eccolo Il campeoni Hai vinto una Apple TV Da 4k Costa 143 gemme Ma noi la vendiamo Perché non ci serve Oh Ecco Questo suono Lo sentite il suono Che è diverso Questa infatti è una cover La cover Cosa ci facciamo con la cover La buttiamo Non ci serve Vai Vai Gemlit Eccolo Sentite come cambia Come cambia la trombetta Questo è costoso No è mai mica tanto Ecco Questo adeperare Al campeone A barbuto sempre piaciuto Vuoi davvero dare questo? Apriamo Vuoi davvero dare un caricatore Un caricatore portato La forma di unicorno A barbuto sempre piaciuto 3 2 Eccolo Attenzione Nel che Suonato la trombetta È un adattatore È un adattatore Non mi devi suonare la trombetta Mi prendo bene E poi è un adattatore Cos'è? Una pentola della Apple? Ah no È un caricatore wireless Ha un altro da 49,90 Non ci abbattiamo Non ci fermiamo Apri Mi sto abbattendo Vai 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 Attenzione Congratulazione Hai vinto 500 Stelline Gemlit Grades Prendiamo queste 500 gemme E andiamo Ho appena vinto Un iPhone 12 Pro Max 512 giga Penso sia uno Dei premi Più costosi Adesso voglio sapere Chi aveva indovinato Che avrei vinto Un iPhone 12 Voglio saperlo È arrivato il momento Più bello del video Secondo me Perché ovviamente Gemlit c'è anche sul telefono Quindi io adesso andrò di là E gli farò vedere I miei premi Tra cui L'iPhone 12 Pro Senza dirgli subito Che sarà per lui Gli faccio vedere Che l'ho vinto Aprendo le mystery box E vedremo come reagirà E dopo gli diremo Che è per lui Dopo aver visto la reaction Vi lascerò anche Un regalino per voi Allora qua sono sul mio profilo E nei miei oggetti C'è l'iPhone 12 Pro Max Bro Bro Ho aperto delle mystery box Ok E stavo di là Mi hai sentito esultare Sì Pensavo stessi facendo Guarda cosa ho vinto No No frate Te lo giuro Te lo giuro L'ho vinto Vedi quello lì Sono i miei oggetti È il mio carrello Ma sai qual è la cosa più bella? Ma frate Sai qual è la cosa più bella bro? Te lo regalo Il tuo Si giuro Giuro Merda frate grazie Ho tutto portato Grazie Il franzetto Il mio telefono Non andava di me Ah direi che l'ha presa Molto bene Sono più felice Di darla a lui Che tenerlo Io ve lo giuro Voglio fare un regalino Anche a voi Allora Io vi lascio il link in bio Per il sito Gemlit Per aprire le mystery box E vi lascio anche il 20% Di cosa starete dicendo voi Una volta che voi caricate Il vostro portafoglio Gemlit Riceverete il 20% In più Rispetto a quello che avete caricato Usando questo codice Ve lo lascio sia qua che in descrizione Se doveste giocare Doveste vincere qualcosa Fatemi sapere cosa avete vinto Ci vediamo al prossimo video Ciao